Giarra è sempre più violenta. Un giovane di 28 anni è stato accoltellato in Via Romagna nel quartiere popolare Iungo. La vittima sarebbe stata aggredita da una persona che l'avrebbe colpita almeno con tre fendenti e la schiena a una spalla. L'uomo si è accasciato a terra ed è stato subito soccorso dal 118. I sanitari hanno poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nell'elipista dello stadio di Atletica Leggera. Il vento attenne Giarrese, seppure vigile, ha riportato per la biferita ed è stato poi trasferito al canizzaro di Catania. La vittima, subito sentita dai carabinieri della locale e compagnia, si è chiusa comunque nell'assoluto mutismo senza comunque fornire alcuna indicazione utile ai fini delle indagini. I militari dell'arma hanno anche sentito alcuni testimoni presenti sul luogo dell'aggressione senza però ottenere informazioni utili dal punto di vista investigativo. Tuttavia si è preso qualche indiscrezione sulla dinamica dell'accaduto. La vittima, che si era recata in Via Romagna nel quartiere Iungo per lavoro, pare si fosse intromessa in una discussione dai toni molto alti ed avrebbe difeso la persona che in quel momento era al centro della violenta baruffa. Una è ingerenza la sua che gli è costata cara, già che il ventotene è stato poi colpito alle spalle con diverse coltellate, come detto, facendolo accasciare a terra. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Norma e del nucleo operativo della locale compagnia.